Rinviata ancora una volta al Cairo la sentenza nei confronti di Mohamed Morsi, accusato di spionaggio per conto del Qatar. Il verdetto sarà pronunciato il 18 giugno. L'ex presidente egiziano e altri dieci imputati sono accusati di aver venduto all'intelligence del Qatar documenti riservati che conterrebbero segreti sulla sicurezza nazionale. L'ex leader dei fratelli musulmani è stato già condannato in altri tre processi separati, a morte all'ergastolo e a vent'anni di carcere. Grazie